Salve a tutti e ben ritrovati. A breve sappiamo che ci sarà il nuovo passaggio dal vecchio digitale terrestre di tipo 1 al nuovo digitale terrestre di tipo 2, cambieranno le frequenze e quindi tutte le reti televisive per l'appunto cambieranno queste frequenze e chi ha dei vecchi televisori si deve adeguare o cambiare la televisione o acquistare un nuovo decoder che riesce a leggere queste nuove frequenze. Come facciamo a capire se il nostro televisore è già predisposto a leggere il nuovo digitale terrestre di tipo T2? Basta andare sul canale 100 o sul canale 200 e se avremo questa videata capiremo subito che il nostro televisore è predisposto. Infatti ci dice che test HEVC-10 il nostro televisore lo legge. Questo indica per l'appunto che questa televisione è già predisposta per il nuovo digitale terrestre. Andando anche sul canale 200 ci dovrebbe essere la stessa cosa. Comunque basta che funzioni uno dei due canali come test. Quindi sappiamo che le televisioni che sono state prodotte dal 1 gennaio 2017 dovrebbero essere già predisposte per queste nuove frequenze. In tal caso voi per poter provare in maniera rapida se il vostro televisore è adatto o meno e quindi non dovete cambiare né televisione né tantomeno acquistare un decoder. Basta andare per l'appunto sul canale 100 o sul canale 200 e vedere se questo test vi compare. Se questa digitura test HEVC-10 è sul vostro televisore siete a cavallo come si suol dire perché non dovete così buttare il vostro televisore ma mantenere quello che avete. Come al solito se questo video tutorial vi è sembrato utile lasciate un bel like, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina. Ciao e al prossimo tutorial.